mamma mia non me lo dire mi stai facendo le frittelle di mela mamma mia dice tutto vai gildare allora le frittelline di mele ci avevo due mele perché se no giragire dovevo frullare non erano mosce aggrinzite però era qualche giorno che ci avevo stavano là da sole e ci facevano pena vero gilare ma ha detto faccio un dolcetto con la mela ma non pensavo che mi faceva la frittella dai evan dice tutto iniziamo due uova eccole qua guardate che belle che sono stavano allora poi devo mettere due cucchiai di zucchero due bei cucchiai belli 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 e 22 abbondanti perché mi è rimasto un po appiccicato qua va bene due allora poi limone grattugiato questo è un limone grattugiato eccolo qua ecco profumatissimo si questo è quello non trattato ecco qua allora queste sono due miele già ve l'avevo detto che io dentro ci ho spremuto il limone che avevo grattugiato la buccia qua ci ho messo tutto dentro vedete e in mezzo ci ho messo anche un po di cannella allora io ci ho messo mezzo cucchiaino di cannella poi voi se le fate fate a piacere vostro se ciavole di mette in ciavole di mette vedete voi insomma ecco se cia mettete c'è sta bene certo allora sto succhetto io non è poco dentro niente allora adesso metto 100 ml di latte allora mettete il latte che volete voi ecco qua intero scremato e uguale latte allora adesso metto e 200 grammi di farina un po per volta però la metto ecco qua e giro piano piano ecco qua ho messa tutta è carina tutta presa girare la nostra adesso metto mezza bustina del lievito per dolci ecco qua mezza bustina e giro giro siamo pronte per andare a friggere gildarella certo e andiamo ora le mangialle eccole qua eccole qua mamma mia ragazzi quanto ci piace che momento godurioso anche questo ecco qua ecco qua quattro volta ne fanno ragazzi ragazzi mamma mia ragazzi c'è un profumo guardate giro 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 gi ecco qua oggi sei tutta una tentazione qua a girare come se fare si è mamma mia c'è un profumo che vuoi di caffè ecco ragazzi sai che fanno troppo buone ste frittelle se ne parla più via ecco se ne sprega niente e mo mo siamo qui tutti a guardate a girare e mbe e namo quella che te pare girare vai facci vedere ma aspetta che lo dici figure di chi te sente buonissime buone buone troppo buone sono divine queste anche quando avete gente ma come mi viene a trovare qualcuno gli fate due melettine fritte ragazzi buone mamma mia sono spettacoli buone ci vanno giù che in amore buone e che vuoi di caffè allora amori miei le mando tanti baci belli col cuore e fatele perché sono buone voilà noi siamo pronti ecco qua piatto ricco e mece mece fico ti lasci a imbacetto ciao 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 ciao